Oggi spettacolare questa stazione dove io sono sceso, guardate che belle gli appennini ligure, è il nome della stazione mi è piaciuto, la moltissimo isola del cantone, guardate la stazione di fronte a me, sono qua ad ammirare questo borgo, lo chiamerei anche il campanile, con una cipolla, ma dove sono qua ad ammirare questo cielo ligure, ma guardate che bella giornata, ho voluto propiarmi di questa fermata per capire il senso di novità, dove io mi trovo tuttora, sì sono vicino a Genova perché vedo i panni distesi alle finestre all'esterno, sì l'importante che dopo proseguo anche il cammino verso Genova o verso il Tortone che con la direzione del treno delle 18 e 10 posso andare a Piacenza, guardate che bella la parte e poi mi piacciono questi muretti qua di una volta, la ferrovia dell'epoca passata, veramente qui è un luogo che per me da fare l'eremita, mi sento a mio agio, guarda la bacchecca, la inquadro posta questa bacchecca qui, molto piccola per Sandro, guarda Sandro, 1607 binario 2, va Genova Brignole, ferma Busalla, guarda poi Arquatta, Genova e qui sono esattamente alla stazione Isola del Cantone dove mi piace perché prendo il nome rispettivo da dove sono nato a Milano, Isola del quartiere Porta Garibaldi, là non era niente, non era nulla come qui, poi è diventata una zona importante, anche qua ritengo valido.